perché tanto dobbiamo stare a tutte le autorità benvenuta a G.A.S.K.I.R.O. all'abitacolo G.A.S.K.I.R.O. è una parlamentare del Partito Democratico nessuno è perfetto lo dice perché è un po' inquieta no, 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 lo dico in modo autoironico perché in questo momento essere deputati ah, per deputato, non per Partito Democratico ma ci mancherebbe altro però ormai l'ho detta è un po' inquieta nel senso che non è stata eletta nel Partito Democratico è stata eletta in scelta civica che è un gruppo che si è un po' sfaldato nel gruppo eravamo una Ferrari di 50 deputati con scelta civica siamo diventati 15, 16 deputati sono stati abbastanza ininfluenti sul piano del potere incidere sulla presenza parlamentare da una parte e su Ferrari mi sembra un po' troppo per me è una Ferrari per me è una portaeree sì, eh beh sì sì, sì però Mario Monti vi ha abbandonato subito al vostro destino quello è stato un grande dispiacere, una delusione umana, politica, io ho creduto moltissimo guardi che l'agenda Monti in tante cose è ancora molto valide, ci sono tante cose e Matteo Renzi l'aveva convinta con l'operazione che sta facendo sul Partito Democratico guardi, Renzi è pieno di difetti come tutti noi, come me, lei per primi assolutamente però è anche una persona che ha un'idea nuova, catartica del partito questo Renzi sicuramente si sta scontrando anche lui con la complessità della macchina governativa, delle scelte, sicuramente ci sono delle cose da implementare, delle forze da rinnovare, però intanto dobbiamo attuare, come dire, mettere a regime le riforme proposte perché pensiamo all'industria, ci lamentiamo che non c'è un'industria, non ci sia un'industria automobilistica in Italia, ma se non si fa ricerca, come fai a fare industria? se non c'è studio, come fai a fare innovazione? le cose sono andate, negli ultimi 5-6 anni, sempre peggio non c'è un governo che abbia fatto meglio dell'altro, perché purtroppo i dati macroeconomici e intanto a Monti già fece scendere in pochi mesi lo spread di 300 punti guardi, lo spread è stata una vampata di qualche settimana, ma nemmeno qualche settimana di 3 mesi, 4 mesi prima era 3 volte più basso di come l'ha lasciato Monti non dico il tema dello spread, lo spread è il tema più virtuale che c'è ma quando c'è PIL, disoccupazione, tutti gli indicatori macroeconomici che fanno la realtà economica di un paese, che vanno giù e che si distanziano perché questo è il vero tema, sempre di più dalla media degli altri competitori ha ragione, è vero vuol dire che falliscono, allora perché falliscono? il dramma è ancora, l'Italia ha una situazione ancora più grave io lo chiedo anche perché lei, diciamo, è filosofa ma, bravo però in famiglia c'è un'impresa il mio marito è un imprenditore e a lui va benissimo però, perché è stato bravo, intelligente è che è un settore che qualche soddisfazione dà appunto, ha iniziato in tempi non sospetti e devo dire in tempi di crisi per lui sono cresciute da tutto, esportazione ha lavorato, lavora come un matto, poverino ma è bravissimo e va bene, lavora sull'estero rischia, è come lui tantissimi imprenditori per bene e onesti in Italia pensi da quanti anni a proposito di previdenza si era cercato di fare, di incoraggiare le nuove forme di previdenza ma non sa quella che le usa dei cittadini questo è molto grave da quanti anni si fa così poi arriva a Renzi e aumenta la tassazione in maniera abnorme proprio su quelle forme su cui aveva un invitato a risparmiare perché era fiscalmente e guardi che nascono anche così i problemi lo guardiamo oltre e guardiamo avanti io ho piena fiducia in questi giovani leader però sa, questo tema qui di fondo che se facciamo un patto io e lo Stato lo violo io, finisco sempre nei guai lo violo lo Stato, passa in cavalleria e non è così simpatico lei ha ragione perché l'Italia del dopoguerra le famose fonte edilizia scolastica che tanta retorica definiva orribile era il simbolo del patto condiviso tra i cittadini e lo Stato del dopoguerra che ha permesso che un'intera generazione crescesse e ci portasse un boom economico e oltre io me lo ricordo mia madre era insegnante maestra e andavo, l'accompagnavo a scuola sono cose che ho vissuto in quegli anni visto che non sono più una bambina io ma no, è giovanissimo più di lei sicuramente sicuramente molto di più però diciamoci hai il coraggio di dirlo così in pubblico no, no, io no non dico, io sono del 62 quindi sei in coetane sono in coetane, mamma mia e allora sembra molto più giovane lei è gentile e si metta gli occhiali da vista va bene, grazie grazie molto gentile